Ciao! Oggi iniziamo un percorso di quattro lezioni sul mio libro, Il Suono in Testa. Ma non questo libro, bensì la seconda edizione, che più o meno sarà così. Deve ancora arrivarmi la bozza, però diciamo questa è l'idea. Cosa ho fatto in questa nuova edizione? Ho aggiunto delle informazioni, chiaramente. Ho corretto degli errori? Sì. E c'è qualche capitolo nuovo, ma soprattutto la cosa più triste è che dietro non ci sarà più scritto che ho 25 anni. Il che è veramente triste, perché ne faccio 30 quest'anno, quindi è brutto. Sì. Beh, cosa è cambiato? Qui stavo studiando al biennio, adesso questo biennio ce l'ho, quindi ho una magistrale in canto pop. E ho fatto un corso di perfezionamento in songwriting come autore di testi al chat di Mogol. E adesso insegno anche a scuola. Quindi questo sono io, sono un cantautore. E la prima lezione sarà sulle qualità vocali. Che è presente anche in questo libro. Ops. Ma questa è una... Una grafica di Evelyn, una mia amica. Non la vedevo dal dicembre 2021. È molto carina. Però ho implementato alcune informazioni che vi aggiungerò anche adesso. Ok, cosa sono le qualità vocali? Diciamo che prendiamo in esempio le qualità vocali della Estil, che col suo metodo non metodo degli anni 80 ha stabilito alcune cose. Mi piace prendere soprattutto le qualità vocali da questo metodo non metodo. Perché le ritengo in una nomenclatura abbastanza esatta, abbastanza che dà l'idea di quello che deve essere. Ok. Oggi in realtà si tende ad avere una nuova nomenclatura formata da quattro suoni principali. Però vi dirò prima queste sette qualità per come le ho scritte qui. Abbiamo il sob o sob cry. Poi c'è il twang nasale, il twang orale, la speech, opera, falsetto, belt. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Cos'è il sob? Avriamo tutta, ecco, e parliamo un po' così. E questo è il sob? Cioè, il parlare un po' così o cantare un po' con questo tipo di suono. Sub cry perché? Perché se aggiungiamo il cry, che è questo, questo piangere, no? Diventa, aggiungiamo il sob e poi il cry diventa questo, una sorta di un po' piangere. Dà l'idea, dà l'idea di tristezza. I can sing this way. Ok? Ok. Il twang, invece, il twang è necessario perché fa parte dei tre principi, diciamo, del canto. Quali il sostegno, il twang necessario e il fatto che la mandibola non deve essere mai protesa e non ci devono essere tensioni in tutta questa zona, anche le labbra. Deve essere tutto, deve essere tutto rilassato. Quindi cos'è il twang? È una compressione della laringe di base che aiuta ad avere più volume. Quindi è necessaria nel pop, nel canto moderno, perché ci aiuta ad avere più volume. Ok? Come possiamo produrla? Con suoni come me, nè, nè. Io preferisco nè, perché dà questo nè. Può essere nasale perché lo pentiamo qui, o può essere orale perché non lo facciamo passare dal naso. Un esempio. È nasale? Ok? È sottile la percezione, però c'è. Speech. Speech è quello che adesso invece si chiama più natural, o una voce naturale, ok? Una voce naturale che sarebbe quindi Opera, non me la chiedete. Il falsetto, chiaro. Che può essere anche arioso, come anche lo speech. Può essere arioso. I can't sing this way Ok, anche lo speech può essere I can't sing this way Il belting invece, oggi è detto edge. Non so perché, sinceramente. A me piace più belting. Che sarebbe una sorta, io lo vedo come un twang, ma sul registro M2. Ok? Quindi Quindi è una voce molto, molto potente Ma Che necessita del twang, a mio parere, ecco, per avere questo suono Ed è quindi usato molto nel rock, nel pop, quando si vuole dare questa spinta, insomma. Quello che vi dicevo prima sulle nuove terminologie che non sono qui, ma sono in quello nuovo contatto di sitografia E che vi lascio anche qui in descrizione Sono il neutral, curbing, overdrive e edge Ovvero Neutral è la voce, lo speech, è una voce molto naturale Quindi I can't sing this way Questo Senza niente Il curbing invece è una voce che io vedo costretta, appunto curbing è costretta I can't sing this way Ok? Possiamo farla anche bassa, ma suona meglio sul mix I can't sing this way Molto costretta qui L'overdrive invece è quella voce che sa un po' di distorto I can't sing this way Sono tutte voci molto metalliche queste due E anche la terza, che è l'edge, che sarebbe come il belting Quindi edge e belting, stessa cosa Come potete esercitarvi, soprattutto con queste ultime Schiacciate il più che potete Come il twang, il twang all'inizio deve sembrare un po' un citofono I can't sing this Schiacciate sto citofono Poi questo grado di costrizione lo decidete voi Prima più sapete farlo, poi allargate Quindi Ok? Poi si può allargare Intanto capite dov'è il punto massimo per fare questa cosa Stessa cosa vale nella voce belting Cos'altro dire sul... come potete esercitarvi con il falsetto? Chiaro? Vi basterà appunto andare su M2 E fare dei vocalizzi con... Chiaro? Come potete esercitarvi invece a togliere l'aria dal falsetto? Perché molti cantano... Molti cantano così Quello che consiglio io è di stare con la mano davanti E sentirete Sentirete proprio l'aria nella mano E di provare a toglierla Quindi non a trattenere, tra virgolette, quest'aria dentro Che tra l'altro vi serve per cantare E appunto non sentirla nella mano Invece, come potete esercitare con il sob e il cry Il sob è facile, basta sbadigliare A avere questa sorta di sbadiglio E provate anche a parlare in questo modo Così sbadigliando Attenti che una cosa che succede con lo sbadiglio È che mandiamo la laringe giù Invece dobbiamo cercare Magari anche aiutandoci con la mano Di tenerla più su Anche se è difficile provarci Il cry invece vi basterà appunto sempre parlando Aggiungere questo malessere Un po' come quando piangete Poi aggiungete, magari mischiate le due cose E provate a cantare Magari con una frase inventata Come abbiamo fatto prima Questa prima lezione finisce qui E vi aspetto alla seconda lezione E vi aspetto alla seconda lezione